L'Associazione Italiana Celiachia è nata a Milano nel 1979. Oggi è presente su tutto il territorio italiano in 20 associazioni regionali che confluiscono nella Federazione Italiana Celiachia. Lo scopo e la finalità dell'associazione è quello di l'aiuto e del sostegno del celiaco e delle sue loro famiglie per aiutarlo nella gestione quotidiana dell'alimentazione senza glutine. L'Associazione Italiana Celiachia offre ai celiaci soci dell'associazione del materiale informativo come Celiachia Notizie, l'ausorgan dell'associazione a livello nazionale, il prontuario degli alimenti senza glutine che viene editato ogni anno, la guida alimentazione fuori casa con l'elenco dei ristoranti e dei locali che forniscono un servizio di cucina senza glutine idoneo al celiaco. Questi locali sono formati dal personale dell'associazione o da volontari dell'associazione a secondo l'associazione regionale. Inoltre, oltre a questo, viene dato anche dei consigli su una buona educazione alimentare con la guida Mangiar Bene Senza Glutine. L'Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus ha due fiori all'occhiello che sono il progetto alimentazione fuori casa e il progetto scuole con il progetto in fuga da glutine. Il progetto alimentazione fuori casa è composto da tecnici che si occupano della formazione, del monitoraggio dei locali che aderiscono al network alimentazione fuori casa, mentre con il progetto scuole ci rivolgiamo alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie con un progetto che si chiama In Fuga da Glutine, proponendo due fiabe, sempre per parlare ai bambini di che cos'è la celiachia e per far capire ai bambini che si può stare bene insieme mangiando tranquillamente senza lì.